E' un'altra cosa. La struttura del canale Mussolini è un'altra tappa del cammino di questa Italia ordinata, potente e tenacea. Complimenti Giacomo, ottimo lavoro. Grazie. Ma che diavolo fate? E' arrivato in ritardo? Eh, dovete scusarci, signor notaio, ma c'è stato un incidente al fosso di Capograssa. Un cavo si è spezzato e un colono si è fatto male. Di chi si tratta? Guido Corradi. Corradi? E' il decimo anno della rivoluzione fascista. Porto con me i saluti del Duce. Non fate ne parola con nessuno, non voglio rovinare la cerimonia. Ne parliamo di tutti. Alle maestranze, alle maestranze che hanno compiuto il loro dovere dinanzi alla patria. Dino. Grave. Non lo so, se ne sta occupando il dottor Aiello. Dalle diverse regioni. A dimostrare che ora l'Italia è veramente una fusa in un unico fascio di valentà. Via Fusa.